Eh sì, eh sì. Iniziamo anche il video commento perché non c'è nulla da fare, purtroppo siamo al 92esimo e 30, ma la Juventus ha dimostrato di non avere ancora la maturità per riuscire a gestire queste situazioni. Il Sassuolo è stato bravissimo, ha lottato fino all'anima, fino all'osso, anche se rimane sempre scansuolo, sia ben chiaro. Però veramente ha fatto una partita con tutta la rabbia e la cattiveria che poteva e ci sta, eh. Non lo sto facendo come critico o come cosa, è giusto così. Sì, perché? Hanno fatto una partita in cui hanno saputo sfruttare al meglio l'occasione, l'hanno saputa sfruttare all'inizio del secondo tempo creandosi contropiedi, li hanno avuti e li hanno, sì, ok, non hanno fatto il dole a doppio, però hanno fatto il tipo di partita giusta per chi va in vantaggio. E poi, soprattutto nel finale, anche dopo il pareggio, non hanno perso la testa, hanno saputo attaccare quando necessario e si sono buttati a terra. Nel momento giusto, nel modo giusto, hanno sfruttato i cambi, hanno saputo far innervosire la Juve. E la Juve è riuscita a farsi ingabbiare dalla trappola psicologica. È stata una partita molto psicologica questa qui. Eccolo qui, quadrato come Alexandro, prova il dribbling e perde un'altra palla. La Juve sta facendo di tutto per perderla, sta partita. Incredibile. Cioè, mettiamo tanti uomini che vanno tutti a riempire l'aria e alla fine siamo costretti da dietro a provare il dribbling rischiosissimo, concedendo tre contro tre. Prima Alexandro a sinistra e poi quadrato a destra. Adesso si quadrato a una seconda occasione. Si butta dentro anche Bonucci, finisce per Caio Giorgi e la palla finisce a quelli del Sassuolo. Si lamenta, no era Caio Giorgi. Attenzione, questi parlano di VAR. Si continua a giocare, vediamo un po', niente. Adesso palla lunga per Kuluseski, bruttissimo. No, riesce ad agganciarla, vediamo che succede. Kuluseski in era di rigore, Kuluseski, niente. Si esce sempre fuori. Eh, ha fatto una bella partita di Sassuolo. Sia tattica che tecnica che psicologica, veramente completa. È la Juve che sbaglia il cross di Guarato largo a destra. È così. Veramente, perché il Sassuolo ha fatto la gara giusta e la Juve è incredibile come si è accascata. Incredibile, questo è pericolosissimo. Attenzione, attenzione, il Sassuolo la potrebbe vincere e la va vincere. La va vincere il Sassuolo, incredibile. Ci sta, ci sta, ci sta. No, ma è giusto così, perché condivido in pieno tutto questo che abbiamo visto. Perché la Juventus è cascata in pieno nella trappola psicologica del Sassuolo. Questa è una gara di mancanza, proprio di maturità della squadra. Allegri, tra l'altro, si è incazzato come una bestia. Cosa sta dicendo? Sto dicendo che è giusto così. Perché il Sassuolo ha fatto la gara che doveva fare. Cioè, ha fatto la gara dove va in vantaggio e devi far innervosire l'avversario. Tu quello devi fare. Va in vantaggio e devi far innervosire l'avversario. E la Juventus è riuscita a farsi innervosire. Capito? È una questione di provocazione. Vi faccio l'esempio della box. Nella box ci sono certi pugili che, ad esempio sembra una battuta, ma andrebbero presi a pugni. Lo so, è una battuta. Però sono talmente incazzosi, talmente nervosi. Fanno anche un po' di provocazione. Ma se tu caschi nella provocazione e inizia ad attaccare come un idiota, quelli lì ti fottono. Perché tu abbassi la guardia, inizi a dare pugni senza più tecnica, e tu ti fai colpire. E quel pugile che era pure antipatico, che tutto il pubblico avrebbe voluto vedere, alla fine ti fotte. E quindi finisce così. Finisce con il Sassuolo che si butta a terra, temporeggia, fa un doppio cambio, prima esce uno, e poi Muldur voleva uscire dall'altra parte. E tu che ti incazzi, e Allegri che dice calma, mantenetela calma, non incazzatevi. E invece è giusto così. Loro hanno fatto la gara, ci hanno fatto incazzare, e alla fine, ragazzi, la Juventus, l'ho detto già prima del gol, ha fatto di tutto, ha fatto di tutto per perderla. Perché Alexandro, da solo, poteva darla a Delict, poteva darla ad Artur, no, deve provare il dribbling, perde palla, 3 contro 3, e rischiamo. Poi vanno tutti in avanti, quadrato, cosa fa? Prova il dribbling, perde palla e rischiamo 3 contro 3. E beh, allora tu la vuoi perdere la partita così. Bonucci che se ne va in avanti, cioè senza senso, senza senso. Dopodiché, è una partita veramente complicata adesso da commentare, perché dal punto di vista tattico, cosa vuoi dire? È stata una gara senza capirci nulla, onestamente a me la Juve non piace, però questa è la Juve, onestamente siamo sempre qui a dire colpa di quello, colpa di quell'altro, Allegri è scarso, quello è scarso, quello è bravo, quello non è bravo. La verità è che la squadra è scarsa, per cui c'è poco da dire, togliendosi, Delict, che è un buon giocatore, eccetera, ma poi per il resto. Abbiamo visto delle buone cose di Caiojoji, di Artur, eccetera, ma comunque è una squadra, ragazzi, quella è, quella è. Poi ripeto, anche psicologicamente molto fragile, per cui era una partita da vincere, sì, ma... E poi comunque la Juventus è anche sfortunata, questo è vero, perché il rimpalo sulla linea, i gol mangiati, eccetera, però un gol sbagliato è pur sempre un gol sbagliato, il palo di Di Bala nel primo tempo, ma un palo è un gol sbagliato, cioè capito, quindi ci sta, ci sta, la Juventus esce malamente da questa partita che ridimensiona tutto il progetto e ci fa capire quanto la Juventus sia veramente una squadra in enorme difficoltà, in enorme crisi. Questo è l'anno peggiore della squadra, sicuramente, cioè, se... se si criticava Pirlo, eccetera, ma... e Sarri e così via, ma la verità è che proprio la squadra non è... non ce la fa, è una squadra così, è una stagione che va presa per quello che è, è una squadra scarsa che non ha mezzi e quindi... però l'importante ragazzi è che noi siamo sempre Rubentus e loro è sempre lo sconsolo, questa è una cosa importantissima che non deve mai mai mancare perché altrimenti ci dispiace. Comunque detto ciò, sulle otto e mezza io ho fame e quindi vado a mangiare, vi saluto, mi raccomando, fate i bravi, grazie mille comunque per tutti quelli che mi hanno seguito, che sembra molto divertente e noi ci vediamo al prossimo giro. Meglio tenere Sarri due anni fa? No, a me Sarri in generale non piace proprio come uomo, come persona, quindi preferisco comunque non averlo e quindi questa è un'altra storia, capito? Perché fai l'ultimo danno pure la beffa, comunque detto questo, vi saluto, vi racconto, fate i bravi, ciao, buonanotte, vabbè anche buonanotte e buona cena per chi fa mangiare come me. Ciao ciao!